Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa in diretta da Firenze. Cosa è successo oggi sui giornali? Ragazzi, la cosa più incredibile che è successa oggi sui giornali è che è un film già visto, se non per un fuoriscena con Berlusconi, di cui vi parlerò tra poco. Quello che è successo oggi sui giornali è molto banale, e cioè abbiamo scoperto che la Lega è unita, si dice, a voce, con tutto il centro-destra e che non vuole fare un governo col PD, e questo già lo sapevamo. Poi abbiamo scoperto che il Movimento 5 Stelle è unito perché è un partito solo del primo partito italiano e non vuole fare un governo con Silvio Berlusconi, e anche questo lo sapevamo. Poi abbiamo scoperto, sempre ieri alle consultazioni, che il PD non vuole fare un governo con nessuno, e anche questo lo sapevamo. Adesso forse qualche retroscenista ci spiega qual è il passo avanti, il passo indietro di quello che è avvenuto ieri, ma nella sostanza, per le persone normali, e io mi metto tra loro, oggi a leggere i giornali non si riesce a capire che cosa sia successo ieri al Quirinale, con le macchine che entravano, con le che uscivano, quello che arrivava con la sua Renault, quello che andava, quello che faceva a Hug, Giorgio. Insomma, non si è riuscito a capire un bel niente, non sembra che si esca dall'impasse. Si era capito nei giorni scorsi che Mattarella diceva se non vi sbregati vi mettiamo qua la casellati a fare il mandato esplorativo, e ieri si è capito, perché questo filtrava che c'era un'urgenza di una possibile guerra, tra poco ne parleremo, in Siria, e quindi un governo era necessario. Ma oggi ancora nulla, non si riesce a capire nulla. Se il PD è fuori e il Movimento 5 Stelle non vuol stare con Berlusconi, delle due l'una. O il Salvini molla Berlusconi e fa sto benedetto governo con il Movimento 5 Stelle, ma gli conviene, o il Movimento 5 Stelle accetta un appoggio, diciamo anche soft, da parte di Berlusconi. Seconda questione di giornata riguarda Berlusconi. Ha parlato ieri Salvini, come leader della coalizione, e Berlusconi alla fine ha detto, come tutti i giornali ricordano, tra l'altro contava i punti del comunicato stampa di Salvini. Oggi il tempo ha titolato molto divertente, Berlusconi ritorna a contare, mentre invece il fatto, che cosa ha detto il fatto? Vi leggo il titolo sobrio del giornale del Movimento 5 Stelle, il delinquente umilia Salvini. Berlusconi che cosa ha detto? No agli antidemocratici e secondo tutte le croniche Salvini si sarebbe arrabbiato di questo fuori onda perché Berlusconi ha voluto parlare. Gramellini, sulla linea del giornale del Movimento 5 Stelle, anche se sul Corriere della Sera 5 Stellato, spiega che Berlusconi ha voglia di protagonismo, lo tratta come un ragazzino capriccioso. Ecco, insomma, bisognerebbe forse ricordare ai signori del fatto e anche forse a Gramellini che il signore sarà pure capriccioso, ma fa parte di una coalizione che ha vinto le elezioni. Poi vi può non piacere la coalizione, legittimo, potete criticare l'idea che esista una coalizione, ma questa legge prevedeva elettorale delle coalizioni fatte dal PD. E quindi, bene o male, questi 5 milioni, come prima erano 10, come prima erano 11, i voti di Berlusconi non sono mai piaciuti a nessuno. Punto. E poi, fatemi dire una cosa, se il partito singolo che ha vinto ha il suo massimo esponente, come oggi nota bene, Sallusti, che si permette di dire che Berlusconi è il male assoluto, ci starà che forse Berlusconi possa dire, essendo lui leader di questo famoso e fammigenato male assoluto, che lui con gli antidemocratici non vuole ragionare. O no. O non può parlare. Cioè, Berlusconi che cosa deve fare, secondo questa idea? Deve prendere i suoi 5 milioni di voti, c'è qualcuno che ancora l'ha votato, pochi o tanti ci sono, e comunque sono 3 volte i voti della sinistra, a cui piace tanto quella tipa di intelligenza che ci hanno spiegato. Vi ho ricordato i Grasso, i Boldrini, no, 3, 5 volte i voti che hanno preso loro. Insomma, questi signori, questi 5 milioni di scemi che hanno votato Berlusconi, mettiamola così, che cosa fanno? Devono stare zitti? Devono subire tutto? Vuol dire, insomma, non è che Salvini ne ha presi 15 di milioni, ne ha presi 6, insieme sono un grande partito. Questa roba qui oggi non mi sembra di averla notata, c'è tutta questa idea che Berlusconi in realtà è ritornato come negli anni 94, 2000, dove non era forse così anziano, anzi l'anagrafe diceva che non era anziano, ma era altrettanto impalatabile, bel tema, impalatabile, da essere veramente licenziato in tronco da qualsiasi giornale. Se Berlusconi si fa momentanamente da parte, qualcuno dice sarebbe meglio. e Berlusconi ha fatto così, piaccia o non piaccia, ha sdoganato il politichese dei tromboni falsi, Berlusconi deve andare in galera, dice Federico, Berlusconi comunque tra i vincitori non può andare a casa, zitto, con questa legge elettorale, ignobile, non si va da nessuna parte, noto un altro di voi, io l'ho votato, François Spazio, buongiorno porro, che conta poco in questo ragionamento, comunque insomma avete capito il senso, quella roba lì c'è, non si può far finta che non ci sia, certo Berlusconi è quella roba lì che interviene al Quirinale, e fa cucù alla Merkel, pensate un po' voi se non lo fa Salvini, cucù. Poi andiamo avanti, l'altro grande tema che secondo me è molto più importante di questo, oggi il Corriere della Sera va su questa linea, che è una linea secondo me dettata anche dal Presidente della Repubblica, è che l'Italia non può fare una figuraccia in Siria, cioè nel grande movimento che c'è oggi in Siria, cioè che Trump, anche se i giornali oggi notano come Trump abbia fatto un passo indietro, ha detto sì, io attacco, ma non l'ho detto quando, Boni, nel frattempo la May e Macron invece dicono che dobbiamo attaccare, Macron ieri e oggi su tutti i giornali dice che sono state trovate queste famose armi chimiche, sarà vero, sarà non vero, tante volte l'ho sentito dire e tante volte questo non è avvenuto, ma il punto fondamentale è che vogliono tutti attaccare la Siria e vogliono attaccare Assad, e Assad chi è? Il nemico degli sciadisti, quindi noi stiamo attaccando il nemico degli sciadisti su delle presunte armi chimiche che vi ricordo, come ricorda oggi Michalessin, erano state utilizzate anche dai ribelli anti-Assad, quindi noi stiamo attaccando chi? L'uomo che sta combattendo in Medio Oriente i fondamentalisti, che è alleato con chi? Con i russi, che sono gli unici che stanno combattendo contro i fondamentalisti, chiaro, questo stiamo facendo, perché lui è un animo, è un animale, va bene? Questo stiamo facendo. Cosa succede? Che i giornali italiani, oggi mi ricordo che in Turini, fondo del Corriere della Sera, dice faremmo molto male stare fuori da questa coalizione, rischiamo l'irrilevanza. Allora, vi devo chiedere una cosa, e vi chiedo una cosa, cosa è successo su una cosa molto, ma molto simile, quando ci siamo occupati della Libia di Gheddafi? Cosa è successo nel caso di Gheddafi? Cosa è successo in quella coalizione, in quei giorni, in cui Berlusconi appunto non voleva, non voleva assolutamente fare l'operazione in Siria? Sapete che cosa è successo? È successo che abbiamo ucciso Gheddafi, noi abbiamo dato il consenso, a malincuore, grazie all'intervento di Napolitano, va bene? Abbiamo dato il consenso, e ci siamo trovati la peggiore immigrazione clandestina, che viene da quelle coste degli ultimi anni. Chiaro? Questo è successo, questo è successo, è una seconda Miriam, hai ragione tu, rischia di essere una seconda Libia, e siamo qua a dire che l'Italia rischia l'irrilevanza se non partecipa alla guerra, è esattamente il contrario, va bene? È esattamente il contrario. Sì, mi parlate del volume, ragazzi, non c'è il volume nelle zuppe, non mi fate diventare nervoso, non c'è il volume. Facebook ci regala questa diretta, non c'è il volume, va bene? Adesso io ho messo anche il microfono, che cosa deve fare? Ditemi voi che cosa... Chiudo la diretta per il volume, non ce la faccio, mi spiace. Ultima questione, così la chiudiamo presto questa zuppa di oggi, mi spiace per il volume, se non riuscite a sentirlo, Fondazione Agnelli che cosa dice? Che tra dieci anni, tra dieci anni, non tra cento anni, va bene? ci sarà un milione di studenti in meno, va bene? Un milione di studenti in meno, però ci saranno 55 mila professori in più, e noi che cosa facciamo? Oggi c'è il pezzo forse più dettagliato di Gavosto, della Fondazione Agnelli, oggi c'è sul, come si chiama, sulla stampa, noi cosa facciamo? Noi assumiamo nuovi professori, non li assumiamo per materia che servo, non li assumiamo per competenza, non li assumiamo per età, li assumiamo soltanto per le nostre graduatorie, che sono legittime, perché c'è gente che ha 30 anni, che insegna senza avere un posto fisso, questa è l'Italia, va bene? Questa è l'Italia, perfetto, avremo bisogno di meno professori, 55 mila saranno di troppo, e noi li assumiamo secondo nessun criterio, se non il criterio sindacale, giusto, burocratico e di anzianità, nell'assurda precarietà con cui l'hanno tenuto negli ultimi 30 anni. Tutti hanno ragione, tutti hanno ragione, sapete chi non ha ragione? Gli studenti che fra 10 anni si troveranno troppi professori vecchi, che non sapranno manco accendere un'intelligenza virtuale, un'intelligenza artificiale, che sarà quella che avverrà, e quella che ci sarà fra 10 anni, e noi saremo un paese sempre più vecchio, che penserà di farsi i suoi abecedari, come nell'Ottocento. Va bene? Detto questo, io vi ricordo soltanto che sul sito nifolaporro.it ci sono tante altre informazioni, questa sera abbiamo, come sempre, 105 Matrix, e se vi è piaciuta questa zuppa, mi spiace per chi non è riuscito a sentirla bene con il volume, la condivida, una zuppa un po' ribollita dalla Toscana di oggi. Ciao!